Buongiorno a tutti, eccoci qui, vigilia di Inter Roma, grandi novità però in arrivo, mega scoop is coming un'altra volta, per non farvi mai mancare le notizie, le anticipazioni, ma prima di tutto concentriamoci su una vigilia così importante, ore 14, la conferenza stampa di Inzaghi, il tentativo di ripartire dopo questa pausa per le nazionali che speriamo abbia rigenerato qualcuno, l'ambiente abbia anche consigliato a Simone Inzaghi il modo per ripartire e vediamo un po' che succede se c'è in programma anche qualcosa di nuovo, qualcuno parla di un cambio di modulo con Mkhitaryan trequartista, vediamo, vediamo qual è il modo per anche sopperire all'assenza di Brozovic, si potrebbe avanzare Mkhitaryan, il grande ex della partita con Barella e Gagliardini, oppure affidarsi alla freschezza di Aslani con Barella e anche possibile recupero lampo di Cialanoglu, a dimostrazione insomma che Ciala sta sempre meglio, si sono invertite le parti con Lukaku, c'è stato un intoppo sulla via del suo recupero, se pensate qualcuno ipotizzava anche una panchina con l'Udinese prima della sosta e invece niente di tutto questo, come avevamo anticipato, si pensava a un suo ritorno con la Roma, poi col Barcellona, gli esami strumentali dei giorni scorsi hanno consigliato prudenza anche perché le sensazioni non sono ancora ottimali, come sottolinea il Tecaldo di YouTube, il giocatore ha una muscolatura imponente, importante, non si vuole correre il minimo rischio di una ricaduta, poi lui stesso nell'anno del mondiale non se lo può permettere, difficile anche Barcellona, addirittura si parla di Sassuolo, per Cialanoglu invece potrebbe già giocare dal primo minuto, visto che è ormai recuperato e stabilmente in gruppo, deciderà Inzaghi, lo sentiremo oggi su tanti temi, se avete qualche domanda da consigliare tra poco si va da piano e cercheremo di farvi vivere anche da lì l'atmosfera della vigilia, come sottolinea il Tecaldo più famoso di YouTube, si sono invertite le parti, dicevamo settimana scorsa Lukaku lavorava già sul campo col pallone mentre Cialanoglu era chiuso in palestra, tanto che le ipotesi e le previsioni di tutti erano per un Cialanoglu che avesse bisogno ancora di tempo e Lukaku che si avvicinasse al suo rientro, poi a inizio settimana evidentemente qualcosa non ha funzionato come si pensava e c'è stato questo passo indietro, una brutta tegola perché manca già Brozovic, squalificato e infortunato e è un altro dei leader importanti della squadra, pensate a togliere due elementi come Lukaku e Brozovic al Milan a una rivale, capite quanto manca a Simone Inzaghi che però non può permettersi neanche solo di stare a pensare alle assenze, deve trovare, come sottolinea il nostro microonde, il modo per ripartire, per rispondere a tutte le difficoltà, cancellare la sconfitta brutta di Udine, ritrovare una compattezza, un'unità di intenti, una fame e gli approcci giusti a legare contro una Roma forte, sta recuperando Dybala e potrebbe esserci, sarebbe curioso che mancassero sia lui che Lukaku che si sono contesi la maglia nera azzurra quasi per buona parte dell'estate. Vediamo un po' oggi che succede e soprattutto cerchiamo di capire come ripartirà Simone Inzaghi. Ipotesi con il ritorno di Andanovic come a Udine, poi vedremo se Onana giocherà col Barcellona o se si uscirà dall'alternanza. Io uscirei nella maniera opposta, però anche su quello vedremo se dirà qualcosa Inzaghi. Quindi Andanovic in porta, Skrini, Aracerbi che mi sembra che ormai abbia superato De Vrai in difesa con Bastoni. La pausa dei nazionali credo che abbia consigliato di far giocare Di Marco a sinistra, a destra Dumfries, Lautaro Dzeko, non credo ci siano dubbi e poi in mezzo da vedere che cosa può succedere. C'è la freschezza, la qualità di Aslani acquistato come vice Brozovic, come designato anche da Simone Inzaghi, c'è Mkhitaryan, c'è Cialanoglu che ha recuperato, c'è Barella e c'è Gagliardini. Quindi bisogna poi decidere come schierare la mediana contro una Roma forte, cercando di non andare sempre in sofferenza lì in mezzo, ma al contrario per mettere in difficoltà gli avversari. Partita molto difficile, anche perché ci sarà un clima rovente. La contestazione della curva che continuerà e cercherà di, appunto, far valere le sue ragioni per accelerare un processo che, come vi abbiamo spiegato con l'ausilio di tutti i nostri esperti, comunque richiede del tempo, ma che sta, come vi diciamo questa mattina, vedendo dopo che si è capito, ed è stato anche praticamente comunicato, un mezzo comunicato stampa che la società fosse in vendita, ha richiamato l'interesse di diversi possibili investitori interessati che vogliono vederci bene, che vogliono vedere i conti. Ascoltate bene, dalle nostre fonti ci sarebbero già in atto una serie di esami dei conti, di due diligence, diversi, diversi investitori hanno praticamente chiesto tramite la nuova banca d'affari, Rain Group statunitense, la possibilità di vedere i conti e di iniziare una due diligence. Ci sarebbero quattro, già quattro soggetti importanti, interessati a iniziare a prendere visione e poi eventualmente a fare le loro valutazioni, iniziare delle trattative, a dimostrazione che quello che vi raccontano certi, diciamo, personaggi da van spettacolo, cabarettisti più o meno, tra Rabone e Capre Ossigenate è tutta una narrazione falsa e veramente che prende in giro i tifosi dell'Inter. Quindi ci sono diversi soggetti che vogliono esaminare i conti e c'è una partita aperta in cui diversi operatori stanno per entrare. Tra questi possibili investitori, possibili soggetti interessati, abbiamo dato l'anticipazione nel corso della puntata di Studio Sport di Sport Mediaset di ieri, di un possibile, diciamo, una possibile cordata facente parte a Mark Lesry, uomo d'affari americano di origini marocchine, fondatore di Avenue Capital, il fondo, un fondo che gestisce più di 10 miliardi di dollari con un patrimonio personale di un miliardo e otto, ma qui non è la cosa fondamentale che solo le capre non capiscono il patrimonio personale perché ha quasi il doppio del patrimonio di Jerry Cardinale, così come il suo fondo gestisce più del doppio di quanto fa Redbird, ma è chi può coinvolgere il suo socio Wes Hidens a Emil Walkie Bucks, la squadra NBA americana con cui ha vinto il titolo l'anno scorso, molto più ricco, si parla di 5 miliardi di patrimonio, ma soprattutto del fondo Fortress che è qualcosa di imponente, una cinquantina di miliardi in gestione, quindi capite se riuscisse a coinvolgere il suo socio ai Bucks, ma la cosa più importante è che è qualcuno, l'Esri che investe per vincere, come ha fatto in America con i Milwaukee Bucks, in cui è entrato nel 2014 pagando, comprando la franchigia che era disastrata e costava 500 milioni e quadruplicando nel valore, portandola a vincere un anello sfiorando altri titoli, con la stella Antetokumbo, c'è un fondo, comunque un investitore, un proprietario che vuole vincere, non ha rivenduto dopo poco speculando e facendo guadagno, vuole vincere, quindi penso che l'identikit sia perfetto. Al momento si parla solo di un interesse e vi abbiamo detto ci sono almeno quattro, quattro soggetti interessati ad andare a fondo, a capire le possibilità di entrare nell'Inter, dopo che appunto è stato affidato il mandato al Reingroup. l'advisor che proprio poco fa ha portato la nuova proprietà americana al Chelsea. Poi vedremo, l'abbiamo detto, se si concretizzerà qualcosa di importante, però si sta muovendo e tanto intorno all'Inter, com'è giusto che sia, aspettando che si concluda il dibattito pubblico su San Siro, che può essere una carta fondamentale per il futuro dell'Inter, vedremo cosa succederà. Lunedì verranno chiamati a parlare gli ingegneri Aceti e Magistrelli, che sono, diciamo, gli ideatori del progetto di ristrutturazione di San Siro, che però mi sembra che non sia preso in considerazione da nessuno, si va verso la demolizione, anche se qualcuno ci raccontava di una nuova proprietà saudita che avrebbe già deciso per la ristrutturazione di San Siro. Mi sembra che Inter e Milan vadano in una direzione totalmente opposta, ma nonostante questo noi cercheremo di dimostrarvi con, appunto, gli ingegneri di qui sopra, che il progetto di ristrutturazione di San Siro è qualcosa di fattibile, che non è assolutamente impossibile, come ha detto Scaroni l'altro giorno, che si può andare a, intanto a costruire, ricostruire, ristrutturare senza abbandonarlo e andare a giocare da un'altra parte, senza essere costretti a farlo, in sicurezza, che non lo si possa fare, non è assolutamente vero. E poi un progetto di ristrutturazione che costerebbe solo 300 milioni, che porterebbe anche alla possibilità di costruire quell'indotto, una galleria panoramica con una serie di attività, centri commerciali, tutto quello che volete, che è previsto anche dal nuovo progetto della cattedrale, senza demolire San Siro, senza demolire un simbolo, una sua storia. Comunque, adesso ne parleremo, verranno sul canale gli ingegneri e cercheremo di spiegarvelo, perché penso che sia interesse di tanti, di tutti, capire se effettivamente ci può fare qualcosa come il Bernabeu. E non è detto che bisogna per forza seguire gli inglesi, che non sono, spesso non sono mai l'esempio migliore da seguire, piuttosto seguirei quello che abbiamo visto anche con i nostri occhi, come si sta trasformando in un'astronave incredibile il Bernabeu, ed è poi curioso che tutta quella tecnologia pazzesca che permette, diciamo, il cambio del manto erboso in parquet per il basket, in campo da tennis, in un, diciamo, in un fondo per concerti o fiere o quant'altro, tutta quella tecnologia incredibile di un'azienda italiana, non si capisce perché non lo si possa fare con San Siro. Lo vedremo e ne parleremo. Direi che non abbiamo neanche niente da rispondere nell'angolo del ciarlatano ai soliti noti. avvisiamo intanto che, visto che gli inviti a cancellare determinati video e offese che continuano a diffondersi, a aumentare, nonostante gli avvisi e le diffide, adesso si andrà avanti dal punto di vista legale e ognuno si prenderà le sue responsabilità. Noi l'abbiamo sottolineato e detto, a questo punto ci dispiace, ma se uno continua a violare la legge, alla fine è giusto che si prenda anche le sue responsabilità. direi che si può benissimo bypassare velocemente, messaggio ai naviganti è stato chiarito, direi, e di un bel po', aspettando di vedere e capire che cosa possa succedere anche sul fronte mercato, perché c'è il Chelsea sempre più intenzionato a chiudere per Dumfries e potrebbe inserire nell'operazione Chalobah che vuole giocare, vuole una squadra che glielo permetta e penso che anche in prospettiva futura sarebbe un bel acquisto un Chelsea che però lascerebbe Dumfries per sei mesi, quindi fino al prossimo giugno, continuando quella collaborazione importante con l'Inter, con cui ha, adesso ha in comune anche Reingroup e vedremo se avrà anche una proprietà della stessa lingua, diciamo così, tutto da vedere e verificare. Frontes Criniar è rientrato in Italia al suo agente Sistici, adesso si comincerà a parlare del suo rinnovo, la liquidità che verrà iniettata entro dicembre da Zhang con l'aumento di capitale e con parte del prestito di Octree che sarà circa di 110 milioni e confermiamo ufficialmente che appunto verranno presi dalla cassaforte lussemburghese, si andrà a cercare di chiudere con Skriniar, sempre che Skriniar sia ancora deciso, come aveva detto al mio microfono, sia ancora, e non ho dubbio a riguardo dopo averlo sentito anche nell'intervista a Dazon, sia convinto di rimanere. Chiaro che prima si parlava di 5 milioni, adesso si parla di quasi 7 dopo l'offerta importantissima del Paris Saint Germain che tra l'altro continua i suoi ammiccamenti, dichiarazioni di Galtier e di Campos e vuole provarci ancora a gennaio, motivo per cui anche si cercherà di blindarlo proprio per non andare anche a perdere un giocatore che potenzialmente con un contratto rinnovato vale quasi un centinaio di milioni, quindi è un'operazione che chiunque farebbe proprio per non perdere un asset del genere così importante per il club. Andiamo a leggere ora un po' di vostri messaggi, ricordo a tutti di iscriversi al canale, mi raccomando, condividete il video, like e iscrivetevi al canale così come dovete fare per il gruppo Telegram Marco Barzaghi Inter, se poi c'è qualcuno anche che vuole entrare nel nostro team e stiamo allargando proprio per tutte le iniziative che facciamo e soprattutto come si sta sviluppando il nostro sito marcobarzaghi.com, se volete far parte del nostro team per qualsiasi tipo di posizione e figura contattateci e cerchiamo di avere uno staff sempre più numeroso per darvi sempre di più con il nostro progetto di comunicazione che non siamo qui a spiegare alle capre. Andiamo a leggere piuttosto i vostri messaggi, mi fa piacere tutto l'amore che Bruno Arena ha lasciato e tutti i vostri messaggi di cui vi ringrazio e sono proprio questi i più cliccati, i più laicati, i più belli. Giuseppe Carollo, erano i miei comici preferiti, fichi d'India. Hanno fatto ridere tutta l'Italia con le loro gag geniali. TVB Bruno riposa in pace. Bruno, Bolchi Arena e Giancarlo, Beltrami, tre di noi. È un onore averli avuti con noi, gratitudine e un arrivederci nel grande campo del cielo azzurro come il giorno e nero come la notte. Mario Violante. Anche Claudio. Bruno, una grande persona, prima che grande artista come uomo nel combattere con una forza esagerata. Quanto lo aveva colpito come artista per aver trovato insieme con Max una strada brillante, originale nel cabaret che non era tanto quello declinato in tv. A Zelig, tanto per intenderci. Permettimi, Marco, un pensiero a quanti gli sono stati vicino. Mi aveva colpito il grande affetto, l'amorevole attenzione con cui è stato seguito in brevi video, servizi fotografici. Ciao Bruno, per la prima volta non sei riuscito a farci ridere. Ci mancherà il tuo sorriso. È assolutamente sì. Anche Angelo Di Terlizzi sottolinea come abbia visto uno dei video degli ultimi compleanni e, devo dire, scrive che nonostante le difficoltà in cui ti trovavi non è tenerezza quella che mi hai suscitato, anzi quello che ho visto in te sono state la dignità e la consapevolezza di un uomo che ha capito che era arrivato il momento definitivo. Dinanzi all'evento supremo ci sono mille parole da dire o scrivere che inevitabilmente si traducono in banale retorica. Correrò il rischio anche di sembrare smielato e ridicolo. Non mi importa, te lo devo. Ha insegnato a chi vuole imparare a forzare il destino e affrontare le cose col sorriso stampato sul viso. Un viso segnato sì dalla vita ma anche da quella parentesi costantemente all'insù dalla quale uscivano sempre pensieri sagaci, intelligenti, mai banali. Ora sei in regia, gli attori ora siamo noi, ora sei membro della presidenza più prestigiosa e importante che l'Inter possa avere. Grazie di tutte le risate che ci hai fatto fare, riposa in pace, Giuseppe Brogna, Vito Fanfullo, tutti voi e io vi ringrazio per un amico grande che non c'è più, con cui ci sentivamo spesso, con cui ci vedevamo, con cui abbiamo fatto anche delle trasmissioni che rimangono, delle belle interviste, delle belle chiacchierate di Inter. Grande Bruno, l'ho visto anch'io, lo Smeraldo, fantastici, tutte e due, riposa in pace. Poi chiaramente si parla anche un po' di attualità. Giacomo Fiori scrive sabato partita fondamentale, speriamo che Inzaghi abbia motivato a dovere la squadra con la fame giusta che manca da tempo. Solo la vittoria con la Roma ci può lanciare a una buona prestazione col Barcellona. Siamo fiduciosi. Anche Paolo Gangemi si unisce al saluto al grande Bruno Arena. Ti ho appena visto in tv e spero davvero che Marc Lesry acquisti l'Inter per dare stabilità a questa grande società. Merita, grazie anche oggi per tutte le informazioni reali. Complimenti ancora per l'ottimo approfondimento di ieri sera. Come ogni giorno ti seguo e aggiungo che grazie a te sappiamo tutto sull'Inter perché siamo sempre di corso e poi mi aggiungo le condoglianze per i fratelli interisti che non ci sono più. Sabatino, sullo speciale di ieri vorrei dire una cosa. I documenti per chi non sa l'inglese possono essere tradotti tramite copia e incolla su Google Translate. Sul discorso cessione credo ci voglia del tempo ma questo prestito potrebbe dare un po' più di serenità all'ambiente. Sul discorso campo meglio Lukaku fuori. Il campionato è lungo ancora mentre la Champions no. Grazie di ricordarci Bruno Arena grande interista che riposa in pace. Enzo Nicolosi, Gianmarco Milanato un grande comico, un grande interista. Grazie per averlo ricordato. Leonardo Guarna mi associa le condoglianze alla famiglia. Matteo Peirone riposa in pace. Bruno rimarrai sempre nei nostri cuori. Peccato che non recuperi per sabato Lukaku. Grande, bellissimo il tuo pensiero e ricordo per Bruno. Molto interessante e precisa la special addiction. Grazie sempre per il lavoro che fai per tutti noi. Come vedete vi portiamo degli esperti di altissimo livello internazionale, non delle figurine parlanti che hanno anche difficoltà con lingua italiana, per non dire dell'inglese. altro che scuole serali. Lì ci vuole, regaliamo un sussidiario. Frank Nerazzurro. Tra due giorni siamo nuovamente in campo. Abbiamo l'obbligo di vincere per affrontare al meglio il Barcellona di quello che stai spiegando Marco per l'aumento di capitale. C'è qualcuno che non capirà. Vabbè ma questo è logico. Avete visto quello che succederà. Cioè si cercherà in tutti i modi di cercare un link che non c'è per salvarsi la faccia e non chiudere il canale, ma per fortuna voi siete soggetti pensanti, anche se qualcuno vi dà dei minorati, dei dementi, dei criceti. Ma io vi ringrazio per la vostra presenza costante, il vostro sostegno e ci dissociamo naturalmente da queste mancanze di rispetto continue. Vogliamo vedere un'altra squadra, quell'Inter prima della sosta? Lasciamola lì. Peccato non ci sarà ancora Big Rom, ma non deve essere un attenuante. Mattia Nerazzurro, a cui facciamo il bentornato sul nostro canale. Certa gente a San Siro non si è mai vista e mai si vedrà, parlano e basta. Noi invece abbiamo l'Inter nel cuore, l'Inter agli interisti e avanti Curva Nord. Maciste Bolchi, Bruno Arena, Giancarlo Beltrami, dalla tribuna lassù ti fate fortissimo. L'ammiraglio Marotta sa fiutare i venti e tempo di Procella, ma forza, forza, forza. Pino Prof, grazie anche per il tuo sostegno e il tuo messaggio. Leonardo Giucca invece ci scrive, comprendo il fatto che non venga messo a Slani, magari è giusto preservare i giovani, perché se poi va male c'è il rischio di bruciarli, però Inzaghi, nonostante lo sostenga, lo difenda sempre, alle volte fa di tutto per non farsi sostenere, mette sempre i giocatori fuori ruolo, Mkhitaryan playmaker, ma così il giocatore me lo limiti ancora di più. Biagio, mi spiace per Bruno, per quanto riguarda l'Inter, comincio a pensare che Lukaku sia di cristallo, addirittura, è un problema muscolare, Pogba cos'è? Forse era meglio che rimaneva il Cese, comunque i bilanci li faremo a fine stagione, chiaramente è un'assenza pesantissima. Fabrizio non darebbe 7 milioni, anche se è forte a Skriniar, non è d'accordo, ditemi cosa ne pensate. Giovanni Salsano, ti ho ascoltato a Sport Mediaset e ascoltami anche oggi in diretta da Piano Gentile, ulteriori aggiornamenti, speriamo che il Meazza non venga abbattuto e venga ristrutturato come il Bernabeu. Dicono che non sia possibile, dimostreremo il contrario. Salutiamo anche Santo Scerana e tutta la Brigata Barzaghi che ci scrive come ogni giorno, Mattia Nero Blu, Giorgio Colombo, Vito Renda, Nanni e poi Mohamed e tutti gli amici sempre presenti. Andiamo a fare la nostra rassegna stampa per chi non si può permettere la lettura dei giornali, il servizio che diamo per dare anche una lettura critica di quello che leggiamo, ma anche qui non pensiamo, non pretendiamo che le capre riescano a capire discorsi così aulici, abituati nei loro scantinati. Almeno utilizzatela questa cyclette perché state strabordando. Andiamo appunto a vedere intanto se qualcuno ha ripreso la notizia, penso proprio di sì. Cosa dite? L'avranno scritta sui giornali o no? Vediamo. Milan gigante addormentato, lo riporteremo in alto. Rosso in calo 66,5 milioni. Parla cardinale. Conte sulle voci Juve, mancanza di rispetto verso me allegri. Formazioni live. Milan, Speranza Rebic, Inter torna Cialanoglu. Niente Roma improbabile. Il Barcellona, Lukaku vede il rientro col Sassuolo. Inter rottura definitiva con lo sponsor. Via dalle maglie entro fine ottobre. Anche qui siamo stati i primi a dire che c'erano dei problemi, che ci fossero. Anche se c'è chi prova a screditare un lavoro quasi trentennale. Ma cosa volete saperne voi? Cosa volete saperne quei quattro scappati di casa? Ben Sebaini, attenzione, nome interessante sul taccuino. Scadenza di contratto, un vecchio pallino di ausilio. Attenzione a Ben Sebaini in scadenza di contratto a giugno. Può essere un nome interessante per la fascia sinistra. Sperando che si svegli anche che Gossens, avendo respirato l'aria della nazionale tedesca e la possibilità di andare ai mondiali, cambi passo. Gazzetta dello Sport in copertina. Un'esclusiva a Murigno, che parla un po' di tutto a 360 gradi. E poi la ripartenza dell'Inter all'interno. Io, Totti al triplete, Murigno esclusivo. Non esiste un problema a Totti, è sempre stato e sarà sempre un simbolo della Roma. Sui trionfi con l'Inter ogni trofeo è speciale, per questo la mia voglia di vincere non mi andrà mai via. Inzaghi intanto c'è Aslani in regia tra Cerbi e Dzeko. Ecco il nuovo asse anti Murigno. Ci provo dopo il triplete con l'Inter anche con la Roma. Inter si cambia in mezzo. Aslani tra Cerbi e Dzeko. Asse centrale tutto nuovo, così Inzaghi tenta lo sprint e poi tecnico squadra in sala video. C'ha la noga, ok? E può partire dal primo minuto. Anche se non credo che lo si rischi in quel modo, però ne sapremo un po' di più oggi, cercando di capire, avendo recuperato un po' tutti, tranne Lukaku, quali saranno le prove, anche se mischia spesso le carte durante la rifinitura. In teoria non sarebbe il momento migliore per modificare l'assetto, cambiare la colonna vertebrale. Pure Simone Inzaghi, costretto alla sperimentazione dagli infortuni vecchi e nuovi, per contrastare Murigno, cambiata la linea che attraversa il campo da un po' dall'altro, su cui si costruiscono i destini dell'Inter. Un tunnel dal difensore centrale, il redivivo a Cerbi. Al centroavanti l'eterno Dzeko, passando per il ruolo di regista, in cui pare aprirsi finalmente l'era di Aslani, anche se ci sono altre possibilità. PSG Galtier insiste, noi delusi perché manca un centrale, su Cialanoglu ve l'ho detto, su Lukaku a questo punto si punta al Sassuolo, al massimo il Belga sarà in panchina col Barcellona, mentre la prossima dià col Sassuolo è diventato ormai il vero obiettivo. Parole di Di Biagio, doppio ex, Simone ti basta solo una scintilla, ma la Roma è strana e subito ti castiga. È la mia partita, Lautaro Di Bala, la decidono loro. San Siro, dove siamo? Più verde, meno cemento, Inter e Milan con questo progetto puntano all'ok definitivo a inizio 2023. Restano i nodi, capienza e la forma, i costi e la forma della cattedrale. Per quanto riguarda la Roma, sembra che Di Bala sia pronto. Lo vedremo, lo andiamo a leggere sul Corriere dello Sport. se si apre. Il mio amico Mo, qui l'intervista è anche un altro ex interista come Ranieri, José galvanizzatore unico. A Milano io pagai l'addio di Tiago Motta e quello proprio fece crollare la sua Inter. Ce lo ricordiamo molto bene. Lautaro Notti Calde, ora fame di gol. Due volte assegno con la sua nazionale, ma con la maglia dell'Inter non segna da 5 gare. Tocca ad Aslani, Ciala recupera e poi ripresa la nostra notizia. Possibile investitore, acquirente, un nome nuovo per il club, è l'Esri. Soccio dei Bucks, stessa cosa ripresa anche da Tutto Sport, in diretta da Piano Ore 13 Italia 1, mi raccomando.